il gas era circa 4 sloti adesso siamo a 3 sloti e 09 secondo me tra un po qua arriverà una botta di quelle proprio anche la benzina è diminuita qua da circa 8 sloti siamo arrivati a 7 70 qualche cosa del genere secondo me ci arriverà una botta tra settembre settembre ottobre queste ruote michelin che ho messo non si vedono al massimo to be honest però mi vanno benissimo per fare questi mesi estivi del set sono usate gli ho dato 100 euro per 4 quindi vanno benone 500 sloti vanno bene sono ancora fattibili insomma ancora drive ball ok sono più piccole delle altre sono più basse non è che si vedono proprio benissimo ma come ripeto mi vanno bene per fare fino a ottobre novembre dopodiché rimetto quelle invernali